Qui con l'allenatore dell'Ajax Puoti, oggi prestazione impeccabile della squadra dell'Ajax vinta veramente tanto ma poco, ovviamente vogliamo un commento su questa perfetta partita Sì, oggi abbiamo fatto una bella prestazione ma c'è stato anche il ritorno di qualche elemento che nelle ultime due partite dove infatti abbiamo trovato la prima sconfitta e un pareggio all'ultimo secondo e devo dire che abbiamo ripreso il ruolino di marcia che ci appartiene Ovviamente stava recuperando il Torino dopo un certo minuto di tempo che cosa poteva dire alla sua squadra per stare attenzione a questo Purtroppo a volte succede che quando hai un margine di risultato abbastanza largo si fanno dei cambi, magari si levano i giocatori che hanno giocato di più la qualità un po' si abbassa, poi mancanza di concentrazioni e se succede l'imprevisto Tanto è vero che poi abbiamo subito fatto dei cambi e abbiamo fatto subito due gol Perfetto, allora grazie mille e in bocca al lupo del Torino Vi grazie